Sono il professor Andrea Spiriti dell'Università degli Studi dell'Insubria, Ordinario di Storia dell'Arte Moderna e oggi devo parlare di due tematiche che hanno una convergenza sicuramente fisica topografica baricentrata su Milano ma una loro complessità, cioè da un lato l'elaborazione della simbologia viscontea e sforzeisca dell'autorità prima signorile poi ducale attraverso la stemmistica, attraverso quelli che sono gli emblemi più riconoscibili e dall'altro quella che è stata definita in modo suggestivo la città simbolica di Leonardo, cioè la presenza in Milano di un apparato topografico, architettonico, simbolico che certamente Leonardo non inventa ma d'altro lato la forza, l'importanza degli interventi leonardeschi. Ora, mi scuso, le immagini sono tutte immagini di pubblico dominio, insomma da motori di ricerca normali, ma ci danno l'idea di alcuni fenomeni. Inizio con un rapidissimo resume di quello che è l'evolversi dello stato visconteo con la sua complessità cronologica. Allora, tutti sappiamo che il nesso profondo tra la piccola stirpe dei visconti e il grande, carismatico potere dell'arcivescovo di Milano, che come successore di Ambrogio, come metropolita di una vastissima provincia ecclesiastica, è sicuramente il dato fondamentale e singolare. Le fortune di casa visconti iniziano quando, al termine della lunga lotta che aveva contrapposto l'alleanza tra il papato, i comuni lombardi e i grandi principati feudali germanici contro i sacri e romani imperatori, la nomina di Ottone Visconti ad arcivescovo di Milano dà l'inizio alla fortuna della casata, ma anche alla opposizione tradizionale della casa dominante di Milano, i toriani della torre, che immediatamente si oppongono all'ingresso di Ottone a Milano. Sarà solo nel 1277 la battaglia di Desio, che fu in realtà un agguato notturno nel quale buona parte dei leader toriani caddero prigionieri e buona parte di loro finì miseramente la vita nelle gabbie appese alla dongione del baradello di Como, che inizia l'autorità di Ottone Visconti su Milano in quanto arcivescovo e in quanto capo della casata. Siamo nel 1277, siamo nel giorno di Santa Agnese, che da allora diverrà una delle patrone dei Visconti. Lo stato che Ottone, poi suo nipote Matteo, poi il figlio di Matteo Galeazzo, primo, riescono a mettere in piedi è sostanzialmente il tradizionale territorio milanese, e quindi la città, e quindi l'area all'intorno, con ovviamente a nord l'area Brianzola, l'area di controllo del Seprio e quindi dell'attuale, grosso modo, provincia di Varese, e una predominanza sulle città più vicine, che sono peraltro sedi di diocesi suffragane e di quella di Milano, che viene poi a terminare quando all'inizio del Trecento lo stato visconteo va in crisi. Dapprima con la spedizione dell'imperatore Enrico VII, poi più drammaticamente con la spedizione dell'imperatore Ludovico IV, il potere visconteo crolla, Galeazzo Visconti morirà esule in Toscana, ma suo figlio Azzone nel 1329 farà risorgere le fortune della casata a Milano, iniziando una straordinaria campagna edilizia, di cui una gemma ancora oggi visibile è la Ciribiriciacula, cioè la grande torre nolare dell'abbazia di Chiaravalle milanese, un'altra è la Cappella Palatina di San Gottardo in corte, un'altra è la grande operazione delle porte urbiche, oggi per lo più al Castello di Milano, un'altra ancora l'urna, l'arca di San Pietro Martire in San Teustorgio. Bene, con i successori di Azzone, cioè i suoi zii Lucchino e Giovanni, Giovanni II, grande arcivescovo, il dominio milanese diventa quello che vediamo in questa cartina, la quale contiene una discreta serie di errori che ora esamineremo. Dunque, come vedete, con la metà del Trecento, con Giovanni Visconti, il dominio milanese si è ormai esteso a gran parte di quella che oggi chiamiamo Lombardia, inclusiva naturalmente del canton Ticino attuale che fino al XVI secolo è profondamente lombardo e che proseguirà nei secoli a essere una delle grandi fonti degli artisti dei laghi lombardi, la città profondamente lombarda di Novara, le altre città piemontese come Vercelli, come Biela e poi, oltre il Po, il lungo dominio visconteo e poi sforzesco, anche qui fino all'inizio del Cinquecento, di Parma e di Piacenza. Faccio notare l'esclusione di Mantua, anche se i corradi di Gonzaga, poi detti Gonzaga, marchesi e poi duchi di Mantua, riconosceranno in qualche ripresa la signoria viscontea come bassallaggio, mai Mantua sarà conquistata nel senso stretto. La battuta che si fa tra storici dell'arte, ma che è ovvia, cioè essere Novara o Piacenza, città molto più lombarde di Mantua, la dice lunga su questa complessa genesi territoriale. Quello che qui è sbagliato sono i nomi, perché i nomi dialettali in realtà hanno una genesi molto complessa, pensiamo solo a Bergamo e Birgum già nel Medioevo, spesso è il nome latino più o meno storpiato che viene adoperato e poi qui c'è un clamoroso errore, cioè l'enfasi su Sondrio, che invece all'epoca è una piccola realtà valtellinese, quando naturalmente è Teglio il grande baricentro della Valtellina, della valle di Teglio, giusto appunto, come rimarrà per secoli. E poi, semmai, un'altra realtà invece importantissima è Chiavenna, è Chiavenna nodale per le comunicazioni con il nord. Ora, è chiaro però che a quest'epoca, alla metà del Trecento, lo Stato visconteo, i visconti governano come vicari imperiali e, quando le hanno, con cariche ecclesiastiche appunto arcivescovi, controllano questa vasta porzione, diciamo, della pianura padana nord-occidentale, ma poi si espanderanno presto già nell'età dell'arcivescovo Giovanni in due direzioni naturali. La prima è Genova, l'altra è Bologna. A più riprese i visconti diventeranno signori di Genova e quindi della Liguria e di Bologna. Il rapporto con Genova lo sottolineo perché è fortissimo. Genova, fin dall'Alto Medioevo, è sede di massiccia di opere edilizie e scultore a volontà di artisti dei laghi lombardi. I maestri Antelami, ricordo che il nome Antelami indica in modo specifico la valle Intelvi, oggi provincia di Como, e che quindi questi magistri creano un legame fortissimo tra le due città. Ora è un legame che durerà fino a tutta l'età moderna. Questo Stato viene messo in crisi dal duro scontro col papato che riguarda anche i nipoti di Lucchino e di Giovanni, cioè Matteo II, Galeazzo II e Bernabò. Ma in questo caso c'è un'altra imprecisione perché è solo nel 1359-60 che una enclave ormai completamente circondata dai dominio viscontei viene conquistata ed è Pavia. Pavia dove Galeazzo II farà una serie di operazioni straordinarie. La fondazione del Castello con la sua leggendaria biblioteca, oggi per lo più a Parigi, messa in ordine da Francesco Petrarca, ospite dei visconti. Il grande parco, il grande serraglio che giungeva fino a dove oggi c'è la Certosa di Pavia e poi dall'altro lato la rifondazione, perché di una rifondazione si tratta, della Università di Pavia che per secoli sarà il grande baricentro intellettuale, culturale, educativo dello Stato di Milano. Posto che la freccetta non funziona e quindi devo procedere in via manuale. Mostriamo ora come la divisione tra i tre fratelli, Matteo II, Galeazzo II e Bernabò, avesse prodotto una frammentazione dello Stato visconteo, questo è abbastanza tipico, i visconti seguono la cosiddetta legge merovingia per cui i domini vengono ripartiti tra i fratelli con il correttivo dell'omicidio. Matteo II viene ucciso dai due fratelli poco dopo, Galeazzo e Bernabò si spartiscono il potere, l'assassinio familiare era un classico, un must di casa visconti. Ora, il Galeazzo vive a Pavia, che è la distanza di sicurezza, direi la distanza sociale adatta essendo fratello Bernabò a Milano e questa biforcazione viene poi risolta quando l'erede di Galeazzo, Gian Galeazzo, cattura e poi fa uccidere lo zio Bernabò, sempre per rispettare le tradizioni di famiglia, e dà origine a una straordinaria espansione che, come vedete, porta nel giro di pochi decenni, e siamo alla fine del 300, Gian Galeazzo muore a Mileniano nel 1402, non solo ha il predominio nell'area lombarda tradizionale, lombardo-emiliano-piemontese, se vogliamo dirla in termini moderni, ma porta alla espansione verso il Veneto, il crollo del dominio degli Scaligeri, il crollo del dominio dei Carraresi e, dall'altro lato, una straordinaria penetrazione in Toscana che porta al protettorato su Lucca, al dominio su Pisa, su Siena, su Perugia, su Assisi. Quando ormai i visconti stanno stringendo ad assedio Firenze, quando ormai il predominio visconteo su scala italiana sembra cosa fatta, Gian Galeazzo muore, lo Stato esplode e verrà ricomposto in chiave più tradizionale, più lombarda, dal figlio e secondo successore Filippo Maria, il Ducato di Milano nella sua dimensione nella pianura padana nord-occidentale. La dura lotta con Venezia strapperà poi, come non citare la battaglia di Maclodio, viste anche le ovvie reminiscenze manzognane, e strapperà Bergamo e Brescia e il fiume Adda diventerà il confine tra lo Stato di Milano e la Repubblica di Venezia. C'era un tizio che a un certo punto nel Seicento l'Ovalica ed è molto felice, tal Renzo Tramaglino, che penso abbiate conosciuto. Ora, questa realtà dello Stato di Milano nel 1447 affronta una grave crisi dinastica, Filippo Maria Visconti muore non avendo figli maschi, ha una sola figlia naturale, Bianca Maria, che aveva sposato il condottiero Francesco Attendolo di Cotignola, detto lo Sforza, il soprannome in realtà era stato dato a suo padre, Muzio Attendolo, ed era ormai divenuto quasi un cognome, per dirlo alla moderna, e con la propria abilità Francesco Sforza riuscirà, abilità sorretta dal denaro notevole del suo amico Cosimo de' Medici da Firenze, riuscirà a distruggere la serenissima Repubblica Ambrosiana, che dura solo tre anni, e a diventare nel 1450, duca di Milano, la nuova dinastia formalmente degli Sforza Visconti. Il doppio nome, il doppio cognome viene mantenuto. Francesco, poi suo figlio Galeazzo Maria, poi il figlio di Galeazzo, il minorenne Jean Galeazzo, sotto la tutela dello zio Ludovico, detto il Moro, e poi nel 1499 la prima invasione francese, con la presenza di re Luigi XII, che non dimentichiamo lo discendeva da Valentina Visconti, la figlia di Jean Galeazzo, e quindi vantava diritti anche genealogico-dinastici sul Ducato. E tutto il primo 35enne del Cinquecento è fatto di lotte. Il dominio francese, il breve ritorno del Moro, il nuovo dominio francese, il breve periodo dal XII al XV di Massimiliano Ercole Sforza, il primo genito del Moro, il dominio ancora francese, e infine il tormentato, tribolato dominio di Francesco II, il secondo genito del Moro, l'ultimo degli Sforza, alla morte del quale nel 1535 avviene tecnicamente una devoluzione. Essendo Milano feudo imperiale, ritorna all'impero e l'imperatore Carlo V lo assegna a sé medesimo e poi, come vedremo, già in parte dal 1540 passa al ramo spagnolo degli Asburgo e quindi avremo il dominio spagnolo su Milano, Filippo II, Filippo III, Filippo IV, Carlo II fino al 1700. Ora, scusate questa premessa, ma era indispensabile e la mostro ora in termini più squisitamente visivi. Ho preso solo due episodi, ma che trovo assolutamente emblematici della affermazione e del trionfo del dominio visconteo, quando nel 1277, battaglia di Desio, Napoleone, detto Napo Torriani, viene fatto prigioniero da Ottone Visconti e questo episodio viene effigiato, viene prima di tutto narrato, viene narrato nel famoso poema di Stefanardo da Vimercate per commissione dello stesso arcivescovo e poi il testo di Stefanardo diventa la fonte iconografica per il grande ciclo della cosiddetta Sala di Giustizia della Rocca arcivescovile, poi Visconti, poi Borromeo di Angera sul Lago Maggiore. E dunque qui è proprio l'episodio del redizio. Napo è stato fatto prigioniero, è inginocchiato, come vedete, a mani giunte e sta implorando pietà con un gesto che era un gesto vassallatico, cioè un gesto di sottomissione, circondato ovviamente dagli armati Viscontei e a sinistra vedete l'arcivescovo Ottone disarmato, perché lui è un vescovo, chiaramente non maneggia lo spadone, disarmato, che sta benedicendo, sta concedendo grazia, si fa per dire perché poi è finito nella gabbia del Baradello, a Napo Toriani. Ecco, questa immagine è forse la prima grande codificazione, siamo poco dopo il fatidico 1277, diciamo siamo entro l'80, con questa esaltazione delle storie di Ottone Visconti nel salone di Angera ed è un clamoroso esempio di propaganda politica, è evidente che le vicende, come dire, dell'oggi, le vicende di quelle di cui probabilmente gli stessi visitatori avevano memoria diretta o almeno notizia diretta, viene eternata negli affreschi di questo clamoroso pittore che poi ritroviamo a Pallanza, ritroviamo a Borgomanero, ritroviamo a Milano, in Sant'Eustorgio, eccetera, che è appunto il convenzionale maestro di Angera. E qui invece mostro un'opera molto più tarda, quando nel 1395 l'imperatore Venceslao I, IV in quanto re di Bohemia, concede a Gian Galeazzo Visconti il titolo ducale, quindi non si tratta più di un semplice vicariato imperiale, Gian Galeazzo diventa principe del Sacro Romano Impero, diventa duca di Milano, poi verrà codificata questa formula che noi ritroviamo nel tutti i documenti di Stato, Viscontei e poi Sforzeschi, duca di Milano, conte di Pavia, signore di Cremona e di Angera. Questi sono i simboli dell'autorità viscontea. Ora, questo è il celebre messale di Sant'Ambrogio, tuttora conservato nella biblioteca capitolare della Basilica, mignato da un team condotto da Anovelo da Imbonate, che raffigura appunto l'incoronazione. Vedete in alto la processione con le gigantesche, ovviamente il gigantismo è simbolico, figure del delegato imperiale con l'aquila nera e di Gian Galeazzo in veste ducale e in basso, con questa suggestiva immagine che include l'altare d'oro di Volvinio, abbiamo la incoronazione vera e propria che si svolse appunto nella Basilica di Sant'Ambrogio Maggiore. Vi faccio notare poi, come già qui, abbiamo tutta una serie di stemmi, certamente l'aquila nera a fondo oro che è il grande emblema dell'impero, ma abbiamo anche degli emblemi viscontei, come ad esempio ai lati la colombina, che poi vedremo più volte, in questo caso colombina bianca in campo azzurro, essendo il motto di origine francese, con il cartiglio nel becco a buon diritto, ora che nel caso di Gian Galeazzo che ha coppato lo zio, il buon diritto aveva una sfumatura quasi ironica, ma insomma è la sua sottolineatura del buon diritto di governare su Casa Visconti, di governare su Milano, di essere legittimamente duca dell'impero. Ecco, questa sottolineatura ducale che proietta i visconti nelle grandi dinastie europee comprende appunto tutte le figure dominanti che ho prima evocato, Gian Galeazzo, Giovanni Maria e Filippo Maria, cioè i tre visconti, e poi Francesco Sforza, Galeazzo Maria, Gian Galeazzo Maria, Ludovico Maria, il Moro, Ercole Massimiliano, Francesco II. Questa manifestazione del messale di Anovero, lo strepitoso capolavoro di miniatura lombarda della fine del 300, ci dà da un lato la misura di queste altissime qualità che sono proprie. In questo momento Milano è già da secoli, come sarà poi ancora per secoli, una delle grandi capitali del lusso. È evidente che prodotti di questo genere, dall'orificeria al tessuto, al lavorio, al codice miniato, fanno parte di una civiltà del lusso che veniva indicata negli inventari delle regge europee, col nome tipico, ouvrege de lombardie, opera lombarda, per dire opera preziosa e di grande valore, quindi dà la misura già a questo fenomeno, bene, dicevo, questa immagine allora ci dà la codificazione dell'autorità ormai ducale dei visconti e poi degli Sforza. Ora, questa autorità si esprime ovviamente anche attraverso l'ubiquità dello stemma, cioè la presenza dipinta, come in questo caso, o scolpita, o miniata, o comunque in altre forme figurative, del famoso stemma, la vivera che il melanese accampa, cioè la vipera che sta sul campo, sullo scudo del milanese, cioè dei milanesi, cioè dei visconti, secondo la celebre definizione dantesca, che in realtà ha una origine abbastanza complessa. Qui, premetto, siamo in Sant'Eustorgio, la grande basilica molto amata dai visconti, questo amore non era disinteressato, i visconti, abbastanza raramente, facciano cose disinteressate, questa basilica era sede dal 200 dei Domenicani. Domenicani gestivano l'inquisizione. I visconti venivano periodicamente accusati dal Papa, in quanto ghibellini, ma soprattutto in quanto desiderosi di conquistare Bologna, come eretici. Il modo migliore per difendersi era dire noi, ma figuratevi, altro che eretici, noi siamo amicissimi dei Domenicani inquisitori, i quali naturalmente avevano il loro buon tornaconto. Ora, ci sono due cappelle in Sant'Eustorgio di patronato visconteo, qui intravedete sopra una lunetta trecentesca, classico tema amatissimo dal mondo cavalleresco di San Giorgio, che uccide il drago e libera la principessa, un tema che per sua stessa natura si presta a una lettura in termini cortesi, in termini cavallereschi, eccetera, e sotto, come vedete, in campo, in questo caso bianco, campisce la vipera, il serpente, il drago verde, che sta inghiottendo un bambino, un uomo, una figura rossa. In realtà le varianti non mancano. Ovviamente c'è una tradizione tarda e falsa di Ottorino o di un altro membro della dinastia che si sarebbe recato alle crociate e avrebbe ucciso un principe locale strappandogli lo scudo e quindi adottandone lo stemma. Non è impossibile una lontana origine orientale, ma naturalmente sono elucubrazioni tutte molto più tarde e tutte spiegazioni ex post. In realtà figure di draghi o di serpenti sono estremamente frequenti nella araldica medievale e la immagine non ha bisogno di particolari codificazioni per diventare subito facilmente riconoscibile. In questo caso faccio poi notare l'evidente suggestione tra la vipera viscontea che campisce lo stemma sottostante e il drago, il drago che Giorgio schiaccia col cavallo e uccide nell'affresco soprastante di Sant'Eusto Orgio. Quello è il caso, diciamo, tra i più precoci. Qui invece abbiamo una vastissima serie azione. Voi calcolate che il tentativo di Census ha contato letteralmente migliaia di questi stemmi. Qui ormai siamo in un contesto tardo tre, proto quattrocentesco, ma in ogni caso, come vedete, cambia poco. L'iconografia è evidente che ci sia una insistenza più marcata sui dettagli morfologici del serpente, del drago, della bivera, coi denti, piuttosto che le orecchiette a punta, piuttosto che l'enfasi sulle scaglie. D'accordo? Ma qui si gioca ovviamente l'ambivalenza del drago, la sua onnipresenza nell'immaginario medievale, ma anche la sua profonda ambiguità. Perché è chiaro che da un lato è fin troppo ovvia la potenzialità negativa, su cui naturalmente la propaganda pontificia insiste abbondantemente, ma dall'altro verso c'è invece quella positiva, il drago custode di tesori, in fondo è il grande mito che insegue la civiltà europea di tutto il Medioevo. Ora, il fatto stesso che la figurina umana sia divorata potrebbe sembrare negativo, ma in realtà è l'immagine di potenza, è l'immagine di grandezza. Analoghe fenomenologie le assistiamo con gli emblemi dell'aquilo, del leone, tanto per dire due dei più ovvi di tutto il Medioevo e di tutta la prima età moderna. E qui mostro un altro esempio quasi coevo a dimostrazione di quanto sia facile giocare di varianti. Questo è un drago molto più elegante, molto più raffinato. Spesso ci sono le lettere affiancate, in questo caso la I e la O, Johannes, in questo caso è Giovanni Visconti, con l'immagine che però conosce pochissime variazioni sostanziali. Siamo sempre in questa logica. Queste immagini o vengono affrescate, collocate ad esempio nelle cappelle di patronato gentilizio, oppure vengono murate nei castelli, vengono murate nei palazzi, vengono murate non solo nelle residenze viscontee, ma anche in quelle dei personaggi principali dello Stato che naturalmente attestano la loro fedeltà, la loro devozione alla casa regnante, mettendone lo stemma accanto al proprio. Ecco, faccio presente che l'area di maggior diffusione oltre a Milano, e questo è assolutamente ovvio, è l'area a sud. Lo segnalo perché effettivamente c'è una differenza vorrei dire concettuale. Indubbiamente Milano fin dal XII secolo ha un'espansione urbana che predilige il nord come direzione, e questo spiega ad esempio perché nel 5-600 il grande circuito di ville, vabbè, è steso dappertutto, ma è particolarmente fitto sull'arco tra rovi mercate, tanto per intenderci. Ora ai confini tra il nord Milano e la Brianza vera e propria. Ma in realtà invece le grandi residenze viscontee, spesso facilmente raggiungibili grazie al naviglio, ai navigli, al sistema di canalizzazione dei navigli, era costituito da residenze come Pavia, come Binasco, come Cusago, come Abbiategrasso, come Vigevano, cioè tutte collocate nella fascia a sud di Milano. Perché? Perché erano aree ampiamente boschive, perché malgrado le grandi opere di colonizzazione agricola compiute fin da Medioevo, in particolare dai Benedettini Cistercensi, erano zone di grandi boschi dove i signori potevano esercitare la loro virtù preferita della caccia. Ad esempio, l'ho già citato, il grande serraglio, la grande riserva di caccia con annesso giardino zoologico, che andava dal castello alla Certosa di Pavia, fondata da Giangaleazzo come sede sepolcrale, come grande necropoli della dinastia, dove lui medesimo molti anni dopo verrà sepulto. Un altro grande veicolo è indubbiamente la monetazione. Noi spesso forse sottovalutiamo la potenza iconica dello strumento monetario e medaglistico naturalmente, ma monetario per ovvie ragioni di diffusione, che è invece formidabile. In un mondo premoderno è evidente che la moneta diffusa per definizione in un numero notevole di esemplari garantisce la cementazione dell'immagine del potere e la creazione del consenso. Elementare Watson. Ragion per cui è chiaro che alla monetazione comunale di Milano, che in genere figia Sant'Ambrogio, il santo patrono, si sostituisce progressivamente o si abbina una monetazione viscontea, questa è di Giangaleazzo II, ma il paradigma è sempre quello, cioè la rappresentazione dello stemma, qui vedete la vipera in basso, con il suo sbergo, con tutto il suo cimiero, e in questo caso è divertente perché il cimiero non fa che reiterare lo stesso motivo della serpe che mangia il bambino. Quindi c'è evidentemente questa doppia, anche qui questo rimando, che naturalmente era, ripeto, diffuso in moltissimi esemplari. Teniamo oltretutto conto che la potenza economica della Milano medievale e della prima età moderna fa sì naturalmente che la lira imperiale e in generale la monetazione milanese godano di una vasta diffusione anche al di fuori dei confini politici del dominio visconteo e poi sforzesco. Gli sforza riprenderanno sostanzialmente la stessa tecnica diffusiva della monetazione. E qui mostro un altro luogo assolutamente topico, la ringhiera, cioè il luogo per il bando, di uno dei luoghi più simbolici, più potentemente topici di Milano, vale a dire la loggia degli Osii in quel vasto complesso oggi dimezzato dagli interventi urbanistici dell'Otto e del primo Novecento che è Piazza Mercanti. Ora, oggi noi abbiamo una visione profondamente distorta perché la piazza che noi chiamiamo Piazza Mercanti a Milano è metà della piazza originale, l'altra metà viene annientata costruendo via mercanti e quindi isolando in modo artificioso il Palazzo dei Giureconsulti, cinquecentesco, dal Palazzo della Ragione e oltretutto era un sistema chiuso con degli ingressi che corrispondevano ai nomi e alla collocazione topografica delle porte urbane di Milano, quindi con una potenza straordinaria semantica di questo microcosmo Piazza Mercanti che riassume il macrocosmo milanese, questo nesso potente, iconico centro-periferia che evidentemente viene rotto da questa operazione. Direi che ci è andata ancora bene perché in realtà il grande progetto urbanistico per Milano, diciamo di età umbertina, prevedeva di annientare il Palazzo della Ragione e creare un rettifilo visivo tra il Castello Sforzesco e il Duomo. Dopodiché sono arrivati al compromesso di rielaborare Piazza Cordusio, la corte, lo ricordo, del Duca Longobardo, la corte del Duca Cordusio, di rielaborare Piazza Cordusio e poi creare la biforcazione via orefici via mercanti. Bene, tornando a noi, la loggia degli osi era il luogo da cui tecnicamente il banditore proclamava le nuove leggi, i nuovi editti, quindi un luogo importantissimo, è quello che oggi chiameremmo un albo pretorio, un albo pubblico, un luogo di codificazione giuridica, politica e amministrativa di primissimo ordine, ma mentre la parte superiore è ancora quella voluta da Matteo Visconti agli inizi del Trecento, invece questa parte viene rifatta in età sforzesca e infatti vedete che i due nomi, due lettere abbreviate che ricorrono sono quello di Bianca Maria Visconti e di suo figlio Galeazzo Maria. Visconti sforza ovviamente, lei Visconti, in quanto ultima dei Visconti, Visconti sforza perché coniugata con Francesco Sforza, lui sforza Visconti in quanto figlio dei due. Tra l'altro va precisato che alla morte 1466 del grande Francesco Sforza, Bianca Maria mantiene una sua autorità che le deriva dall'essere il vero grande tramite della trasmissione del potere, perché in fondo è lei la figlia di Filippo Maria e lei la nipote del grande Giangaleazzo. Ora, in questo caso abbiamo l'immagine del vultur di questa aquila a voltoio che tiene tra gli artigli la povera bestiola, ma ai due lati, come vedete, il grande stemma che, vi faccio notare la finezza, è ancora lo stemma Visconteo. Non è lo stemma sforzesco, non c'è l'aquila imperiale, o meglio, l'aquila imperiale è sintetizzata nella figura centrale, con questa immagine però libera, meno codificata in uno stemma, diciamo così. E allora questa ringhiera ci dà la misura di un altro fenomeno diffusissimo nella storia dell'arte, che è il fenomeno della reiterazione, cioè del fatto che essendo un luogo carico di valori simbolici, quando si deve ricostruire, si ricostruisce lì, il che implica a volte delle perdite dolorose, perché evidentemente si distrugge o si modifica quello che c'era prima, però è ovvio che il valore simbolico è troppo forte. Se uno deve rifare la ringhiera, la rifà nella loggia degli osi, perché quel luogo, di quello spazio, piazza della ragione, piazza dei mercanti, come la chiamiamo noi, è un luogo fortissimo di identità civica milanese. Già a questo punto devo precisare una cosa. A differenza di altre realtà signorini, i visconti non abitano nei palazzi delle istituzioni comunali. Scusate, lo dico in modo molto sintetico. A Milano c'era un broletto vecchio, più o meno nell'area di Palazzo Reale attuale. Quel broletto viene distrutto e all'inizio del XIII secolo viene costruito il cosiddetto broletto nuovo, che è quello che vediamo noi, cioè il grande palazzo della ragione, dominato all'esterno dalla statua 1233 di Oldrado da Treseno e all'interno degli affreschi voluti da Pagano della Torre nel 1240. Questo broletto nuovo non diventa la casa dei visconti, come invece faranno gli scaligieri a Verona e come faranno i cararese a Padova, per citare due esempi in Valpadana, ma invece i visconti si costruiscono vicino all'arcivescovado, che stava più o meno dove sta quello attuale. Quello attuale è la ricostruzione voluta a metà trecento da Giovanni Visconti e ampiamente rimaneggiata dal Cinquecento in avanti. Bene, stava lì, vicino, in quella che si chiama la Corte Vecchia. La Corte Vecchia che Azzone fa frescare da Giotto, alcuni frammenti avanzano ancora, come pure lì è la Cappella Paratina di San Gortardo in Corte e nella Corte Vecchia i visconti e gli sforza abiteranno a lungo. Solo nella seconda metà del Quattrocento si inizia ad abitare anche alternato nel Castrum Porte Zobie, nel Castello di Porta Giovia, che noi conosciamo nella sua ricostruzione di secondo Quattrocento, voluta appunto dagli sforza e che pertanto chiamiamo il Castello Sforzesco a tutt'oggi. Ora qui mostro invece un diploma, uno dei tanti diplomi pergamenacei che la nuova dinastia dei visconti ormai sforza realizza ed è quello con il doppio stemma. L'ho segnalato perché è uno dei primi casi in cui si assiste alla duplicazione stemmale. Voi vedete a sinistra la vipera col bambino, tra l'altro i visconti non sono mai molto formalisti sul verso, talvolta è orientata verso sinistra, talvolta verso destra, ma non c'è una particolare regola, mentre al centro, sotto l'angelo che lo regge, vi è il nuovo stemma che prevede l'uso dell'aquila imperiale. Questo è un privilegio particolare che l'inquartato propriamente imperiale che viene spesso riconosciuto a famiglie importanti, Gonzaga ad esempio verrà riconosciuto, è proprio per simboleggiare la fedeltà all'impero, essendo principi e duchi dell'impero è ovvio che ci tenevano molto a questo riconoscimento. E qui lo mostro in una versione però più complessa. Questa è la volta, peraltro molto restaurata, molto rifatta della sala cosiddetta delle Asse, più propriamente dei Moroni, nel Castello Sforzesco, peraltro da poco restaurata, col grande stemma che come vedete è uno stemma per così dire multiplo. Abbiamo tre elementi che si ripetono, uno è la vivera, la vipera di scontea, nella sua definitiva codificazione in campo bianco. La seconda è l'aquila imperiale, l'aquila nera coronata in campo oro e la terza invece è lo stemma reale francese, i tre gigli d'oro in campo blu. Ahimè, quello era blu oltremarino, polvere di lapislazzolo, naturalmente col tempo il colore è andato un po' a pallino. Ora, perché questo terzo stemma? Perché fin dal Trecento i legami sono particolarmente forti, tra i visconti e poi la corte francese. L'abbiamo già detto, prima il rapporto immediato dai Savoia, a loro volta imparentati con la corte francese. Poi Giangaleazzo farà il clamoroso matrimonio di sua figlia Valentina con il duca di Orléans, quindi un membro della casa reale di Francia e questa discendenza orleanista sarà quella che poi permetterà a Luigi XII, come già accendavo, di vantare i diritti dinastici su Milano. Di pari passo va la concessione di inquartare lo stemma con quello reale francese, un privilegio poi ribadito nei complessi e altalenanti rapporti di Francesco Sforza con la corte di Francia e poi codificato fino alla fine del dominio del Moro, quando appunto re di Francia diventerà altresì duca di Milano. Ecco, sottolineo una cosa, questo tema qui siamo nel tardo 400, questa grande operazione è di Leonardo da Vinci, anche se poi molto molto ripresa, rifatta, restaurata e il committente è naturalmente Ludovico Maria Sforza, il Moro, ormai duca alla morte quasi sicuramente non naturale del nipote Giangaleazzo Maria nel 1494. Ora nel 94 tra l'altro il re Carlo VIII di Francia scende in Lombardia per andare verso Napoli che intende conquistare e in quell'occasione ribadisce al Moro il diritto di fregiarsi dello stemma di Francia. Ora in questo ovviamente gioco voi capite un chiaro equilibrismo politico. Gli Sforza erano principi dell'impero, Bianca Maria Sforza sposa l'imperatore Massimiliano, ma al tempo stesso l'alleanza con la Francia è nodale per Milano e quindi questo simpatico equilibrismo di stemmi. C'è lo stemma visconteo e quindi la legittimità del proprio dominio su Milano, c'è lo stemma imperiale ma c'è anche lo stemma reale francese. Ecco, questa è la ricostruzione di Luca Beltrami che come sappiamo è il grande riorganizzatore del Castello Sforzesco. Il Castello Sforzesco rischia di essere raso al suolo e Beltrami è tra quelli che più strenuamente si batte per difenderlo. Il grande restauro integrativo viene ultimato nel 1901 e in questi stemmi rifatti è abbastanza interessante perché vedete lo stemma sforzesco classico con l'aquila imperiale, i gigli di Francia, la vipera viscontea, ma vedete anche questo gioco carino per cui a destra c'è Francesco Sforzo, stemma FR, FSF, quindi Francesco Sforza, Massimiliano Sforza, ma a sinistra l'UB sta naturalmente per Luca Beltrami e che con questa ironia si affianca i due Sforza nella sua qualità di restauratore del Castello. Si pone in qualche misura alla pari e citando proprio lo stemma alla francese che è quello, come abbiamo appena visto, della sala delle asse. Ecco, ma un altro stemma, un altro emblema assolutamente forte è la razza, razza all'italiana ma più correttamente razza o rasa all'antica, che è sostanzialmente un soleraggiante, mettiamolo così, un soleraggiante, che noi ritroviamo in una delle più clamorose imprese di Giangaleazzo. Quando Giangaleazzo diventa duca, ma in realtà già negli anni precedenti, per sottolineare il grande potere di questa vastissima congeria territoriale che egli era riuscito a tenere insieme, le due fondazioni simboliche, fortissime, sono il Duomo di Milano e la Certosa di Pavia. Se la Certosa rimane veramente poco più che una fondazione simbolica, saranno poi in parte Filippo Maria, ma soprattutto gli sforza a promuovere l'edificio che oggi vediamo, che è sostanzialmente l'edificio tardo quattrocentesco, invece il Duomo di Milano, già dal 1386-87, inizia a essere realizzato ovviamente partendo dall'abside e poi prosegue, come sappiamo, nei secoli, nella lunghissima, ininterrotta fabbrica del Dom de Milano, con tutti i sottintesi di lunghezza temporale evidenti. Ora, il finestrone absidale, il finestrone terminale, è un finestrone di chiara e fortissima valenza simbolica, perché la metafora è la divina maternità di Maria. L'aspetto in soldoni, l'iconografia è questa, il paragone metaforico è questo, come la luce attraversa il vetro policromo e crea colore, policromia, all'interno delle navate, così il raggio dello spirito rende Maria feconda del Cristo, mantenendole intatta la purezza virginale, ma consentendole altresì di divenire la zeotokos, la madre di Dio. Questa è la metafora, e quindi la vetrata. La vetrata che ha una ricchissima simbologia, che vi risparmio, voglio solo concentrarmi su due immagini, vedete al centro la razza, che è anche il sole raggiante, e quindi la divina presenza, e sopra quello che dovrebbe essere lo spirito santo, in realtà ha decisamente i caratteri di un'aquila, e quindi uno spirito non tanto colomba quanto aquila, con evidente allusione all'aquila imperiale, e quel sole divino, che è anche un sole visconteo. Più in basso, poi, probabilmente il grande Jacopino da Tradate, ma siamo ormai nel Quattrocento, aggiungerà le due figure di spalle di Vescovi, quasi sicuramente Ambrogio e Agostino, o secondo un'altra interpretazione di Ambrogio e Simpliciano, e ai lati le vedete le figure mirabilmente scorciate, a destra dell'angelo Gabriele Annunciante, e a sinistra della Vergine Maria Annunciata, quindi il tema della Annunciazione. Questa forte caratura mariana, come sapete il Duomo è dedicato alla Natività della Vergine, ma in generale, insomma, la simbologia mariana è certamente predominante. Ma come vedete, anche in questa simbologia mariana, anche in questo contesto sacro, che più sacro non si può, si inserisce potentemente il simbolo dei Visconti, la razza, il simbolo dell'impero, l'Aquila. Quindi c'è un'immagine di chiara potenza. E poi ci sono tutti gli stemmini minori che intravedete nella parte inferiore della sezione della vetrata che qui mostro. Ecco, questi sono altre diverse testimonianze, scusate, ad affresco, invece della combinazione della razza nella versione più semplice che è quella a raggi fiammanti e quella più complessa che ha raggi a segmenti, che spesso viene abbinata, soprattutto a partire dall'età di Giangaleazzo, alla colomba del Abondroa. Ora, se vogliamo, da un certo punto di vista, questo abbinamento c'era già nella vetrata del Duomo, perché anche lì avevamo la colomba Aquila e la razza Visione Divina. Quindi anche qui le abbiamo addirittura sovrapposte. Abbiamo la razza, abbiamo la colomba e abbiamo il motto Abondroa, Abondroa. Ecco, che non è semplicemente un'affermazione orgogliosa della legittimità del proprio potere. Ma è un discorso, su cui dovremmo spendere molto tempo, tranquilli e ben esento, che nella cultura di antico regime è il concetto che viene di solito codificato nella idea del re giusto, cioè del fatto che l'autorità, non siamo evidentemente in un contesto democratico, siamo in un contesto di autorità o addirittura ritenuta di diritto divino o ritenuta di delega da un'autorità più alta, come può essere ad esempio quella imperiale. Allora l'idea è, ciò che si fa, si fa perché è giusto, se non è giusto non si può fare. Ad esempio, Luigi XII dice, è giusto che diventi duca di Milano perché discendo legittimamente da Valentina Visconti, figlia legittima di legittimo matrimonio di Giangaleazzo, mentre Bianca Maria, sua nipote, era illegittima e quindi l'autorità degli sforza è illegittima. Capite? Se non c'è un appiglio di questo genere, anche le più audaci conquiste sono ingiuste e quindi indegne di essere mantenute. Quando il re Carlo VIII di Francia, come dicevo prima, scende alla conquista del regno di Napoli, scende dicendo io sono il legittimo erede dei duchi di Angiò, vero, i quali duchi di Angiò e i conti di Provenza erano i legittimi re di Napoli, scacciati dagli usurpatori della casa di Aragona e quindi io sono il vero re di Napoli, io sono un re giusto. Ecco, c'è questa idea che non è solo propaganda politica, è anche una delle radici legittimanti più forti della cultura politica di antico regime. L'ostentare quindi in un emblema reiterato il fatto che ciò che avviene avviene grazie al favore divino, i raggi ovviamente, la colomba dello spirito, certo, ma avviene a buon diritto, fa parte di questa simbolica molto potente. Qui è un'immagine ricostruita sempre del contesto beltrammiano, ma interessante l'ho mostrata perché riproduce un affresco ancora fotografato e all'inizio del Novecento, oggi purtroppo non più esistente, che era il caso forse più completo di elaborazione di questo iconema. Cioè noi qui abbiamo la colomba, insomma un po' arcigna per essere una colomba, comunque vabbè, abbiamo il motto sul cartiglio, abbiamo la razza, abbiamo la seconda razza, cioè quella lineare, e poi abbiamo le fiammelle. Ecco, questo elemento delle fiammelle, cioè una luce che non solo emana evidentemente chiarore, ma si espande, è assolutamente forte negli anni di Galeazzo, Maria Sforza Visconti, il figlio di Francesco e di Bianca Maria, e non è fatta per fini decorativi, è fatta per dire che ogni espansione politica e militare del Ducato di Milano è pienamente legittima. Quindi in realtà è un'autogiustificazione di potere estremamente chiara ed estremamente importante. Oh, scusate, ho saltato, perdonate, con violenza ben due immagini. Ecco, qui mostro invece due raffigurazioni di un altro emblema, quelli cosiddetti del fuoco o della scopetta. E questo è un emblema un po' più complesso, cioè si passa dagli stemmi, intesi in senso araldico proprio, a quelli che sono degli emblemi. Sappiamo che alcuni di questi erano già diffusi in modo sporadico, in modo meno sistemico, nel Tardo Trecento. Ad esempio, quando Bernabò Visconti voleva dichiarare guerra a qualcuno, era solito spedigli un regalo un po' sinistro, cioè gli spediva un frustino con questo messaggio, io ti castigherò come un putto, cioè ti fustigherò come un bambino. Voi sapete che il sistema pedagogico medievale è basato sul metodo Pestalozzi, ma non nel senso del pedagogo svizzero, ma nel senso delle bastonate, delle frustate, ragion per cui Bernabò irrideva questi principi dicendo io vi tratterò come degli scolari ribelli, come dei bambinetti, dei mocciosi fastidiosi e vi tirerò le mazzate. Da questo emblema di Bernabò se ne lavora un altro, quello di un bastone acceso, come vedete, all'estremità inferiore, da cui pendono però dei secchielli, che sono dei secchielli d'acqua ovviamente, ed è chiara la contraddizione metaforica, l'acqua è il fuoco, l'acqua spegna il fuoco. Ora, il discorso che cosa sta a significare? Ed è sottolineato direi da un terzo elemento che a noi pare forse secondario, decorativo, ma che invece è fondamentale, che è l'essere questi bastoni obliqui. L'idea è il signore, il visconti, lo sforzo, è in grado di punire, di bastonare, di incendiare, ma è anche in grado di versarci sopra l'acqua. La pace e la guerra sono sotto il suo dominio, il suo arbitrio. In buona sostanza è colui che è capace di fare entrambe le cose. Ha un potere punitivo, ma ha anche un potere, diciamo, rigenerativo. È l'acqua e il fuoco al tempo stesso. In più, a questa valenza originaria se ne ha un'altra, che è la valenza ecistica, cioè la valenza fondativa. Questo è un tema che i visconti applicano in modo fortissimo a Pavia, che è l'ultima a entrare nel loro dominio e quella a cui dedicano forse più cure urbane, subito dopo Milano. L'idea, cioè, di una rifondazione simbolica della città, dove il fuoco del focolare, della casa, e la metafora casa-città è una delle più ovvie di tutta la storia del mondo, e l'acqua, perché è chiaro, c'è bisogno dell'acqua per vivere, sono gli elementi fondanti della prosperità che il dominio legittimo, buono, giusto, voluto da Dio, dall'imperatore e dal re di Francia, del visconti prima e dello sforzo, poi, non può che portare a risultati fulgidi di prosperità e progresso. Come vedete, la nostra propaganda politica ha molto da imparare dalla straordinaria potenza di queste immagini elaborate tra 3 e 400. C'è una capacità sistemica di incidere in termini di coagulazione del consenso, che è veramente impressionante. E come vedete, è ovvio, sia l'affresco, sia il rilievo scultorio, si prestano magnificamente a questo uso reiterato. Ecco, qui mostro uno stemma tardo, questo è dell'età del Moro, e questo è uno stemma abbinato, in realtà questo è uno stemma di altre famiglie, cioè del dal verme, a cui viene concesso lo stemma ducale. E qui vedete, allora, l'alternanza, c'è la vipera, c'è il giglio di Francia, ma c'è anche la scopetta, e la mostro in questa complessità perché la scopetta è un altro emblema che troveremo autonomamente come molto forte. Ecco, sottolineo l'importanza della presenza di cartigli con dei motti, abbiamo già visto a Bondroa, ad esempio. Bene, perché questo è già un emblema. Emblema che cosa vuol dire? Vuol dire un concetto che è espresso simultaneamente da un testo, un motto e da una immagine. Ora, non dimentichiamoci che la emblematica moderna nasce a Milano, che ha una sua formidabile codificazione già dai primi anni del Cinquecento, cito un caso clamoroso che è la Villa Calchi a Calco, il borgo da cui traggono il nome Brianzolo, che sono di una famiglia, tra l'altro, che ha legami con uno dei grandi padri dell'emblematica scritta, cioè Erasmo da Rotterdam, ma negli anni 30 del Cinquecento sarà Andrea Alciati che creerà il primo grande libro degli emblemi, il paradigma di tutti i manuali di emblematica dell'Europa moderna e quindi è una peculiarità milanese molto forte. Ecco, un altro stemma invece è uno stemma che nasce come emblema personale. In realtà molti di questi duchi hanno il diritto accanto agli stemmi, diciamo, di famiglia di elaborarne di propri e in questo caso lo stemma proprio era di Ludovico il Moro, il quale non aveva ottenuto il potere in modo diretto e legittimo. Ludovico era un figlio cadetto, il primo genito era Galeazzo Maria e quindi in linea teorica sarebbe dovuto rimanere per tutta la vita fuori dal potere. A un certo punto riesce abbastanza fortunosamente alla morte del fratello Sforza Sforza, no, non è un gioco di parole, ma è davvero così, a diventare duca di Bari e questo ducato di Bari in mano agli Sforza avrà poi una sua straordinaria storia fino alla metà del Cinquecento, fino all'ultima grande duchessa di Bari, cioè buona Sforza, regina di Polonia, granduchessa di Lituania e duchessa di Bari, ma questa è un'altra storia e, dicevo, già da duca di Bari, Ludovico elaborerà tutta una sua emblematica che poi quando ammazzeranno il fratello, lui diventerà il tutore del nipote che più tardi probabilmente ammazzerà e diventerà duca, insisterà su questa emblematica. Uno di questi è l'emblema del nodo, cioè un drappo con questi motivi a onda bianchi e neri alternati, sormontato dalla vipera viscontea, questo è uno scudo da parata, quindi uno scudo di legno, serviva solo a scopi decorativi, con i piccoli gigli di sfondo e però il nodo, cioè la sua capacità di stringere, di conquistare il che, detto da uno che aveva fallito due colpi di Stato prima di imbroccare il terzo, evidentemente era un segnale di autoaugurio. Un altro è quello, non è una rosa come potrebbe sembrare, è un melo cotogno. La mela cotogna è una delle tante cose a cui siamo debitori nei confronti del Moro, perché Ludovico il Moro era sicuramente una geniale canaglia, ma era altresì uno straordinario uomo di Stato. La sua attenzione alle coltivazioni nello Stato di Milano è leggendaria. Adesso dico una cosa che sembrerà banale, in realtà è formidabile. Ludovico Sforza intuisce le risorse potenziali dell'area che comprende, dell'area all'epoca di dominio milanese, è ovvio, comprende la Lomellina, compresa la sua prediletta Vigevano, comprende Novara, comprende una parte del territorio vercellese. Vercelli era stata ceduta da Filippo Maria Visconti ai Savoia, ma una parte del vercellese era ancora milanese. In quest'area lui impone il riso. L'idea del riso che passa dall'essere quello che era nel Trecento, cioè anzitutto un medicinale, all'essere una coltivazione di larga diffusione. Il passaggio alimentare del riso su larga scala, che noi riteniamo assolutamente identitaria di Milano in termini gastronomici, Berri Zutin, è invece una introduzione quattro e soprattutto poi cinquecentesca. Per dare il buon esempio, vicino a Vigevano, Ludovico Il Moro fonda una fattoria modello, la sforzesca, non mi sembra ovvio, la sforzesca che deve costituire un paradigma e anche ovviamente un invito a eguagliare le grandi operazioni agrarie del Signore e nella sforzesca noi abbiamo una serie ricchissima di emblemi, li mostro in serie. Uno di questi è appunto il melocotonio, il cui utilizzo è ampiamente potenziato negli anni del Moro e che sta a simboleggiare fecondità. Melocotonio, melograno, sono tutti emblemi legati all'idea della fecondità. In fondo la nostra stessa tradizione di mangiare il melograno al primo dell'anno perché porta soldi, porta buono, è un fossile folclorico, per così dire, di una tradizione gastronomica. Ecco, è interessante notare, questo è un elemento non banale, come queste tradizioni vengano a codificarsi proprio tra fine IV e primo Cinquecento. Pensate solo a quello che è ad esempio nella cucina del meridione italiano del Cinquecento l'introduzione del pomodoro, tanto per dire una banalità. Grazie per la visione!